Ciao a tutti, io sono Maria Rita Caracciolo, mi trovo alla stazione biologica di Roscoff in Francia dove sto facendo il terzo anno di dottorato. Devo dire che innanzitutto non sarei qui se non fosse grazie al corso di Coastal Marine Biology and Ecology e al doppio titolo organizzato dal professor Piraino. Perché? Da un lato il corso di Coastal mi ha aiutato ad acquisire tutte le conoscenze scientifiche necessarie se si vuole perseguire questo tipo di carriera. Dall'altro lato il doppio titolo che mi ha portato all'Università di Lille, in particolare a Vimere, mi ha permesso di entrare in un mondo completamente nuovo di analisi statistiche ed ecologiche su R e MATLAB che mi sono state estremamente necessarie per vincere il dottorato che sto facendo adesso. Quindi direi che il corso è estremamente valido e soprattutto il fatto di farlo in inglese è veramente importante. Ma la doppia Laura va considerata anche quella perché vi mette a contatto con una nuova realtà estera che per me è stata la realtà francese e sia da un lato permette di acquisire nuove conoscenze. Ma anche dall'altro lato permette di conoscere nuove persone e cominciare a crearsi quella rete di collaborazioni che è necessaria se si vuole continuare in un tipo di carriera di ricerca. Ed è stato proprio questo titolo e il fatto di essere a Vimere a contatto con nuove persone che mi ha portato poi a conoscere la mia attuale professoressa di tesi e che quindi mi ha portata qui dove sono adesso.